Onorevole Rossomando, il PD ha aderito alla manifestazione indetta oggi dalla FPCGL per denunciare l'emergenza umanitaria vissuta nelle carceri italiane? Sì, il Partito Democratico ha aderito a questa manifestazione e da tempo che denunciamo sia in Parlamento che fuori l'emergenza carceri che è un problema di emergenza di chi sta dentro le carceri ma è un problema di emergenza di chi sta fuori ed è un modo diverso da parte nostra di affrontare anche il tema della sicurezza e dell'effettività della pena, di come la pena viene espiata di quanto e come questo influenza anche la sicurezza dei cittadini Ci sono due modi di parlare di sicurezza con proclami, manifesti e zero risorse perché si parla sempre di piano carceri ma non si dice mai come, quando e con quali risorse si fanno leggi manifesto che producono più carcere e questo non significa assolutamente maggior sicurezza per i cittadini perché una pena più umana, una pena che veramente recuperi è un carcere diverso e quello che influisce e determina anche la sicurezza dei cittadini e questa è un'ottica completamente diversa è un'ottica che guarda i problemi delle persone e dei cittadini è un'ottica di concretezza che è sempre proclamata da questa maggioranza ma mai praticata Grazie a tutti